Ingredienti Dosi per 4 persone 350 grammi di tagliatelle 150 grammi di mascarpone Un uovo Parmigiano grattugiato Sale Preparazione Frullare l'uovo in una terrina e amalgamare il mascarpone lavorando bene l'impasto Cuocere le tagliatelle al dente in abbondante acqua salata e condirle con il composto Cospargerle con abbondante parmigiano grattugiato e servirle caldissime Il piatto è pronto! Buon appetito! Grazie per la visione! Grazie per la visione!